...dotta da Riccardo Venini, lei è una ragazza toscana ma per motivi di lavoro ora penso che vi avrete qui in Emilia-Romagna, facciamo un bel applauso perché presenta il suo primo singolo virtuale, poi ci spiegherà anche come scaricarlo, pensate che ha già una media di 15 scarichi al giorno, applauso per Selene Lungarella! Il brano che propone questa sera, accoglimi, ci puoi parlare un attimo di questo brano e spiegare come ascoltarlo anche, come scaricarlo? Allora, si può scaricare su tutti i siti, i negozi online, sono molto emozionata e onorata qui di essere qui questa sera insieme a voi, questa piacevolissima serata, voglio prima di tutto ringraziare il signor Andrelini, il patron da Selene Lungarella, grazie! Allora non vogliamo ascoltarvi, scontriamo questo singolo, accoglimi, la voce Selene Lungarella! Grazie! 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 Grazie!